La storia del libro che c'è, magari ce lo andiamo ad analizzare con i capitoli, no? Tanto, Corrado Rizza, ma poi la stesura di un libro è vicino alla stesura di un brano musicale, no? Beh, forse la potrei paragonare più a una compilation, perché io ne ho fatte tante, questa è una compilation, questa è una compilation di ricordi, per me, cioè io non sono uno scrittore, sono uno scrittore in quanto ho firmato questo libro, ma comunque questo è un libro di ricordi che chiunque di noi in effetti potrebbe fare nella propria vita, no? Forse devi accumulare un po' di ricordi, quindi nessuno è superiore all'altro perché scrivo un libro, è solamente anche un discorso, diciamo, di età, no? Io ho 55 anni e poi mi sa che potreste essere quasi tutti i miei figli, insomma, presto a poco. Anche tu. Allora, toccheremo diversi argomenti oggi con Corrado. Ve lo presento brevemente. discioca storico, è bello questa ripresa, è underground, siamo creando un format, DJ storico di Roma, della scena romana, poi ovviamente si è mosso per il resto dell'Italia e il resto dell'Europa e il resto dei continenti e della vita, però insomma quello che hai vissuto in una maniera molto intensa è Roma. Sì, 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 anche perché, lo diciamo subito, prima i DJ erano molto più, il concetto di resident era molto più forte, prima il disgiocchi stava, proprio perché, poi poi entraremo in questo argomento, comunque il proprietario ci teneva molto ad avere un sound, ad avere un DJ, affinché il locale potesse essere anche riconoscibile, riconducibile a quel tipo di sound e a quel tipo di DJ, quindi il DJ era un riferimento molto importante. Ok guest. Ecco, è cambiato tutto per oggi, nel senso che si è ribaltato tutto, un discorso che magari prima si faceva anche fatica a trovare dei libri, delle scuole, però magari c'erano i negozi, oggi la cultura si fa in una maniera, prima si faceva in un'altra, cos'è che è cambiato in una maniera molto evidente secondo te? Sì, no, voi siete fortunati perché voi amate questo lavoro, anche io sono fortunato, ora vi dico perché, però lo siete anche voi, voi siete fortunati perché vi siete già trovati in un periodo storico in cui la tecnica, per esempio, che è alla base perché la tecnica, questo libro, ci tengo a dirlo, è dedicato dedicato e il sottotitolo è Io e Marco Trani due DJ, la mia storia però è in parallelo con quella di Marco Trani, che è un DJ che purtroppo non c'è più, non so se l'avete mai sentito nominare, comunque a mio avviso è stato forse il più grande DJ a livello tecnico che l'Italia ha avuto e forse io che ho sentito molti DJ nel mondo, anche a livello mondiale. Quindi la tecnica, quello che mi diceva sempre lui, è fondamentale, quindi la tecnica, il saper miscelare, fondere, voi parlavate prima di armonie, cioè mi piace che ho sentito queste, ho sentito che nominavate appunto, fondere quindi l'armonia, avere dei dischi uguali, prendere un disco del passato con un disco del presente, questo dovrebbe essere la vostra, anche, oltre a passare le novità, è quello che sicuramente preferite. Che stavo dicendo, siete fortunati perché noi quando abbiamo iniziato questo lavoro, ma non perché siamo più fichi, è che abbiamo iniziato questo lavoro alla fine degli anni 70, quando non si conosceva per esempio la tecnica, cioè sembra assurdo oggi, non stiamo parlando di 100 anni fa, stiamo parlando di 40 anni fa, 35 anni fa, e noi non sapevamo proprio come miscelare due dischi, sì io sentivo che questo disco mi ricordava quell'altro, ma non avevamo proprio le nozioni basilari, non contare le famose 8 piuttosto che 16, non ti dico poi il rispetto del periodo musicale, era bello parlare con voi perché voi capite quello che si diceva, non lo dico una persona, quindi il rispetto del periodo musicale, il rispetto dell'armonia, noi non sapevamo veramente come, e cosa è successo? È venuto qualcuno poi nell'America, parlo di Roma, un tale Robert Drake che portò questa tecnica in Italia, lui non era un disgiocche bravissimo, però aveva capito la tecnica, che poi non era altro, lui aveva già avuto la fortuna di lavorare con Robert Drake, lui era Robert Drake che aveva avuto la fortuna di lavorare con Nile Rodgers, quello degli Schick, che oggi voi conoscete i Daft Punk, ma questo Nile Rodgers aveva fatto gli Schick e poi ha partecipato a tanti progetti di altri ragazzetti, tipo Del Bowie, Diana Ross, comunque insomma è stato un produttore, e lui evidentemente dall'America ci ha portato questa tecnica, noi a Roma siamo stati particolarmente noi, chi prima di me, in questo caso Marco Trani per esempio, è stato uno che ha fatto subito sua questa tecnica e l'ha coniugata con il suo gusto e con la sua ricerca, lui era un amante del funky, per esempio, dove il funky è una musica con la cassa sincopata, la cassa non era dritta come oggi, e la cassa è stata sincopata e spezzata e soprattutto umana per tantissimi anni, lo è stato quasi fino alla metà degli anni 80, no se non sbaglio, nel senso quando poi, quando sono arrivate le batterie elettroniche, erano licenziati i batteristi, tu inserisci anche con delle, che tu sei uno storico, io arrivo un po' dopo di te, no no però sai tutta la storia, quindi le famose Roland, le famose 808, cioè avete sentito parlare di questi strumenti che si usano ancora oggi con tanto piacere perché ti riportano a quel sound, oggi è tanto piacevole, ma all'epoca pure quel sound, noi non è che non deviamo mai immaginare che quel sound poi sarebbe diventato, era quello, perché c'era solo quello, cioè non è capito, io questo vi voglio far capire, cioè che voi dovete cercare di inquadrare il periodo, noi non sapevamo niente, una lavagna nera o un foglio bianco e lì piano piano abbiamo costruito tante cose, però questa cosa poi è stata bellissima al momento in cui ci siamo ritrovati poi a capire certi meccanismi e cominciavi a vedere che poi i dischi che entravano a tempo e poi piano piano, cazzo è uguale a quest'altro, senti 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 senti, 16, 32, riuscire a tenere i dischi insieme anche perché avevamo degli strumenti molto diversi da quelli che avete voi oggi, che uso anch'io, ma voi siete già nati con questa tecnologia, oggi c'è un tasto che si chiama Sync che io mi sta anche bene, perché se tu utilizzi il Sync e poi mi fai altro tipo di effettivistica, di cose, va benissimo, però quello che diceva Marco Trani al suo figlio, gli mise lo scotch, gli mise lo scotch sui numeri, adesso tu mi trovi il tempo, il figlio di Marco Trani oggi è anche lui un DJ anche molto bravo, stasera starà anche lui lì ospite, se finite dopo. Al blanco di piazza, c'è un incontro con la stampa, dove si sentirà anche un po' più di musica di oggi, poi lo farò dopo un piccolo DJ, quindi ci saranno incontri un po' più musicali, oggi saremo sul tecnico. Sì, io con voi preferisco parlare, mi fa molto piacere di parlare di cose tecniche perché sicuramente voi avete già delle grandi nozioni, però è interessante capire come se uno vuole fare il meccanico, è anche importante capire come è fatto il motore dentro, quindi è vero che c'è scritto Sync, è vero che ti trova subito le battute, fate questa prova, io la faccio ancora oggi, mi metto lì, quando oggi lavoro con le apparecchiature con quale voi siete nati, io mi metto lì, vediamo se sono capace ancora a trovare il tempo, mi metto lì, trovi il tempo, vado a vedere, ma domanda provocatoria, ma è meglio un tasto Sync o un cavallo? Io preferisco il cavallo, perché il cavallo mi dà, il cavallo tu dici il controtempo, no? Bitmatch in fatto male? Sì, perché, ok non sono come una cagata, cioè che mi sbagli che non sai mixare, allora devi ricominciare da capo, è come il gioco del loca, allora ricominci dal via, però, non so se vi ricordate questo gioco, il gioco dell'oca, è una cosa... Io preferisco il cavallo, cioè preferisco il rapporto umano, cioè l'uomo è fatto anche per sbagliare, tu non puoi dire nessuno è perfetto, capito? Quindi l'umanizzazione del messaggio è fondamentale, perché a volte all'epoca nostra, per esempio, nasceva anche da, aspetta, metto questo, no no no, più bello questo, allora tu non ci arrivi, perché poi magari hai passato quel punto, erano dei dischi nostri, erano dei dischi nostri, ma voi potete benissimo andarveli a ritrovare, perché se fai una ricerca storica, dove tu potevi cambiare solo in un punto, se tu passavi quel punto, potevi cambiare, ma facevi il cavallo o facevi la cavalleria, nel senso, se tu avevi una sezione di fiati, ta ta ta, passato quello ci volevi mettere la stessa cosa in un altro disco, non lo faceva più, perché lì era la... Oggi i dischi sono dritti, a questo punto la cassa è diventata dritta, il suono è diventato e cambiato, è giusto che le cose cambiano nella vita, però voi vi siete ritrovati con un mondo dritto, cassa dritta, allora come diceva, prezioso, ma com'è che funziona? Com'è che facevate a mixare, certo, com'è che facevate a mixare brani di registrazioni riprese live, cioè se c'erano gli chic che suonavano live e avevano un intro di batteria che era suonata live, come li facevi a mixare? Li dovevi seguire, li dovevi seguire addirittura a botte con il dito, no? Tu sapevi, dopo un po' di tempo che li mettevi, sapevi che le prime otto battute ce la facevi, dopo le prossime otto il batterista, essendo anche lui umano, sembra che va uguale, ma lui ha perso, e questo poi si va a sommare, quindi questo è scritto, come gli orologi, hanno una perdita, ogni totale, tu mixi, a un certo punto il disco ti esce, ma non perché se hai sbagliato tu, perché un batterista è diverso dall'altro, perché i primi dischi erano fatti con la batteria, andate a sentire queste cose, cercate se vi interessa, io non mi voglio convincere, fate anche un percorso, il sync è la Google Car, mentre da sola, arriveranno pure a questo, però io personalmente, io lo riconosco un DJ, anche se fa il sync, io lo sento se un DJ c'è all'anima, perché poi questa è un'altra cosa importante, ci vuole l'anima nelle cose, in tutto, da quando vai a letto con una donna, no, no, devi avere l'anima, se tu non metti l'anima in una cosa, è una cosa meccanica, e qualcuno se ne accorge, adesso ho fatto l'esempio della donna per dire un rapporto, cioè comunque no, si vede se la cosa è fatta in maniera meccanica, se tu non trasmetti, oggi parlavamo in un'altra conversazione di passione, se questa passione tu ce la fai, traspare anche, traspare, cioè se tu devi fare il DJ solo perché è figo, io ho conosciuto dei ragazzetti della vostra età, e sicuramente non è il vostro caso, che magari si preoccupano più di quanti tatuaggi si devono fare, o di che musica devono, cioè chiedono loro, ma che pensi, cosa faccio, che musica faccio, chiedono al proprietario, perché loro dicono qual è la cosa più veloce per raggiungere il primo possibile lo scopo, questa è la problematica di tanti settori, non solo della musica, quindi quello che, prima sempre stavo con loro, prima che arrivate voi, loro mi dicevano noi stiamo dentro casa, lì a provare, adesso lavoriamo dentro casa, va benissimo, perché la prima serata, il primo cliente, sai, sarà i vostri genitori, che ti diranno a bassa, che ti diranno, oh, ma capito, sai, in dialetto dipende, come diceva la mamma di Marco Ebrani, che diceva, che prima anche lei non c'è più, diceva a Marco, oh, mi sa che adesso tu qui, lo dico in romano perché è carino, mi sa che tu adesso qui mixi, perché quando ci sono le percussioni lo so che tu entri dentro, perché la madre aveva capito che quando il disco, noi addirittura li leggevamo i dischi, sembra una cosa assurda, ma il disco, se tu ti guardi un vinile, dove c'era il break, il famoso break, cambia colore, noi sapevamo che lì cambiava colore, poi ci sono dei genitori, dei genitori, di poco più anziani di noi, tipo, non so, Claudio Casalini a Roma, che ci raccontava che lui non aveva neanche il preascolto, perché non c'era il preascolto, i mixer erano senza preascolto, erano solo dei miscelatori, e quindi lui si metteva lì a sentire, tu metti una puntina, senti, lui sapeva che in quel punto, poi si erano inventati, noi l'abbiamo fatto nostro, tu mettevi del, chiamiamolo panno Lenci, vabbè, non so che lo sapete, però ve lo devo per forza ripetere, Vabbè, li chiamate Swift Manz? Vabbè, io li chiamo Feltrini, perché erano quelli dove, noi, io li tagliavano, dove si giocava, si metteva, era il sottotovaglia, ve lo ricordate il panno Lenci, quello che si si metteva, noi li facevamo così, mettevi il disco, ti facevi il disegno, è un tuo rituale, no? Che però ti consentiva di fermare la battuola e andare indietro, è fantascienza, non so, cioè, è fantascienza oggi, per noi, per me è fantascienza quello di oggi, perché io non me lo sarei mai immaginato che, vi dico la verità, mi ero immaginato una volta anche i videoclip, perché i videoclip sono andati intorno all'84-85, e io dico che bello sarebbe sentire un disco e vedere, ma io non sono un uomo delle tue, cioè, sono una persona che è sonnata nel 1961, però per farvi capire come si è evoluto poi questo nostro mestiere in maniera abbastanza veloce, però mi domando, questo diciamo anche oggi, sarà questo sviluppo, è stato anche un po' un inviluppo, perché ha atrofizzato le menti, ha atrofizzato l'entusiasmo e ha rallentato, cioè, ha fatto sì che ci siano tante persone che si sono interessate, io per spiegare alla mamma di un mio amico che il lavoro facessi, ero veramente imbarazzato, cioè, la prima cosa che dicevano, vabbè, sei un drogato, cioè, sei uno che sta in discoteca, che stai lì con l'orecchino, la notte vai in discoteca, cioè, vabbè, sei un drogato, quindi, insomma, il mio figlio è meglio che il mio amico. Oggi il DJ è presente nelle pubblicità, è presente nei film, io ho un bambino di 10 anni, quindi guardo anche spesso così sfuggita la televisione sua, io vedo che la figura del DJ è sempre presente, cioè, oggi la figura del DJ è importante e anche la discografia si è reso conto che il DJ può fare finalmente la differenza. Oggi, in classifica, tu trovi piuttosto dei DJ che dei cantanti famosi, e questo sarà un altro motivo. Oggi gli stessi personaggi pop che hanno bisogno dei DJ per darsene una rinfrescata al sound. Assolutamente, sì, ci sono anche tante situazioni che sono dei blef, è giusto che loro lo sappiano, sono persone che mettono il loro nome, dietro hanno veramente dei musicisti veri, ma oggi si fa, si usa il nome, io quando ho fatto i dischi, noi quando abbiamo fatto i dischi ci mettavamo, ma ci nascondavamo, perché c'era l'umiltà, no, di dire, no, no, non possiamo metterci il nostro nome, mettiamo un gruppo e poi mettiamo magari produced, by, remixed, by. Oggi forse abbiamo anche un po' sbagliato, con Giorgio Bianchi, io, Giorgio Bianchi è un altro mio ex socio, io avevo delle discussioni, perché lui invece aveva un po' intuita questa cosa, quando abbiamo avuto qualche piccolo successo a livello mondiale, lui diceva, perché non mettiamo di più fuori il nome nostro? Io invece lo teniamo calmo, perché comunque, e oggi, oggi, tu fai un disco, forse anche i presenti, metti subito il tuo nome, perché purtroppo poi il tuo nome ti serve per fare serate, perché innesco una serie di meccanismi, prima... È una costante distribuzione di biglietti da visita, no? Bravo, prima si poteva campare facendo i dischi, capito? Oggi non è sufficiente, oggi purtroppo devi fare le tante serate, ti devi scontrare con una competizione, ecco, entriamo nel vivo, a volte anche sleale, perché c'è gente che va a lavorare gratis, perché sono magari figli di papà, che lo fanno per hobby, che lo fanno perché fa figo, e sicuramente non è nessuno, non che voglio fare i conti in tasca, però dico, voi che state qui e studiate questa cosa, mi fa solo che onore, perché siete delle persone che hanno voglia di imparare e non hanno la presunzione di dire, no, io già so tutto, levati, fammi fare la serata. Io conosco, ho sentito di gente che quasi paga per fare serate, perché evidentemente vi si innescano dei meccanismi, che ne so, di fighe, di, non lo so, comunque questa cosa per me è veramente... Comunque oggi, ancora oggi fa figo fare il DJ, forse di più del calciatore, no? Sì, 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 perché io vedo calciatori, vedo attori, gente che vuole fare, tutti ora vogliono fare il DJ, cioè non capisco, allora che o c'era una frustrazione, o il DJ oggi c'era una frustrazione, ma c'era una frustrazione, ma c'era una frustrazione, ma poi c'è magari qualcuno bravo, io ho sentito suonare il figlio di Sarkozy, a San Moritz, sarà così, ma dipende sempre, ma cosa invece ti sei portato tu da Roma a Miami? Io adesso vivo a Miami, cosa ti sei portato di background italiano, cioè quel valore aggiunto? Io penso che il valore aggiunto lo diciamo anche oggi, noi DJ europei, comunque abbiamo rispetto a loro, abbiamo seguito un mercato doppio, e quindi abbiamo fatto una ricerca musicale europea e una ricerca musicale americana, cioè in America, negli anni 80, per fargli degli esempi, usciva Madonna, usciva Michael Jackson, usciva, stiamo parlando di primi dischi di questi altri che poi sono diventati artisti conclamati, il Lionel Rich che prima stava con i Commodores, diventa solista e fa All Night Long, cioè ci sono delle cose, e loro erano molto protettivi della loro musica, erano molto a cazzi loro, ecco diciamo, la musica inglese sì, i Beatles, tutta la parte, però la disco, la dance era quella loro, si ballava la musica loro, noi invece in Europa abbiamo preso molto anche dai Franky Ghost to Hollywood, diciamo oggi Duran Duran, gli Spandau Ballet che comunque oggi ci potranno pure, non possiamo, magari se uno ci ripensa dice, ma sì, un sound particolare, perché attenzione, attenzione, non esisteva l'house, cioè io ho assistito al parto dell'house quando è nata, perché ero a New York nel 1986, mi sono trovato per fortuna anche a Paradise Garage, che è stato forse uno dei posti insieme al warehouse di Chicago, dove questa house music ha straverso due persone che sono Frankie Knuckles e Larry Levan, che purtroppo non ci sono più, io ho avuto la fortuna di conoscere Frankie Knuckles, non ho conosciuto Larry Levan, anche se lui, fu lui che mi lasciò il mio nome, ma tramite una persona, però vi devo raccontare che per il fatto delle sette e dieci che conosci, qui insomma, c'eravamo, eravamo lì, ma loro di noi non sapevano niente, cioè anche noi facevamo la musica di qua, però quello che dicevamo sempre oggi, non c'era Facebook, non c'era internet, quindi loro non sanno molto, ancora oggi i DJ americani, da poco che loro viaggiano e vengono qui in Italia, in Europa, da poco, i Morales, i Vega, si si conosco, poi c'è stato qualcuno di noi che è stato un po' più scurbo e li ha magari ospitati, li ha fatti venire dei club e si è fatto a loro volta, poi... A volte l'Ibiza ci ha salvato qualcuno, a livello di Ibiza, sì, perché Ibiza è stato un po'... Laboratorio. È stato un trade union tra l'America, soprattutto con gli inglesi, perché anche gli inglesi lì è un altro problema, cioè gli inglesi, anche loro erano molto protettivi della loro musica e difficilmente li facevano entrare nei loro club, con quei pezzi tuoi, specialmente a noi italiani che siamo stati famosi, oggi siamo famosi per aver fatto la Italo, la Italo Disco, la Spaghetti Disco, e io e il mio piccolo, e qui tu puoi dire anche la tua, noi siamo stati comunque anche tra i primi a produrre la Italo House, no? C'è la Rep di Portolotti, la Media Records, la Time Records, i Black Box, stiamo parlando di... Vedremo più avanti con altri workshop, incontreremo proprio personaggi che sono stati i protagonisti degli anni 80 e degli anni 90 con questo passaggio appunto di Italo Disco, Italo House, Italo Dance, è stato un po' quello che l'Italia personalizzava dell'estero, no? Cioè l'Italo House era l'house nostra, Italo Disco era la disco nostra... Poi ho toccato Ibiza, Ibiza, io per esempio con i piccoli successini che avevo già machine, poi magari i documentari su quello che ho fatto, tanto oggi non può dire cazzate, comunque già machine, strings on love, paradise orchestra, ho fatto Black Connection, forse la cosa più importante, sono partite da Ibiza, cioè Ibiza ha capito che noi eravamo bravi, ha cominciato a suonare la musica nostra e poi gli inglesi se la sono presa e siamo entrati anche in classifica, in classifica inglese che era una cosa all'epoca pazzesca, quando ancora si vendevano i dischi, si svinire e cominciavano a spuntare i cd. Oggi già non ci sono neanche più i cd, quindi ecco, vedete come il tempo brucia velocemente tutto, no? Quindi probabilmente oggi tra poco non c'erano neanche più i mp3. Obiettivamente è meglio essere nati in un periodo come il tuo, nella quale in verità c'era questa ignoranza sotto il punto di vista della tecnica, la ricercatezza musicale e la ricercatezza della tecnica anche di mixaggio, o comunque o essere il giorno nostro nel quale ci sono molte tecnologie da sfruttare però il mercato è un po' più chiuso. Questa è una domanda che ti dovrei fare io a te, perché la mia risposta è io che ho provato l'uno e l'altro perché sono contento che mi è andata così perché, sempre per farti un esempio, io ho scoperto che da un telefono a gettoni, c'era il gettone, io per telefonare dovevo, capito? però era bello, era bello andare a citofonare un amico al citofono, scendi, oggi io scendi cioè neanche non chiami il telefonino, cioè prima c'era il fischio, c'era andare a citofonare c'era tutto un'altra cosa, è meno romantico, è meno romantico, bravo, è tutto un po' più anziani, no? No, però è bello perché pensate semplicemente, una cosa che tu ce l'hai facile, no? Qui è appena corsa contro il tempo alla fine, oggi si, oggi si, si brucia tutto subito, oggi tutti, perché tutti possono arrivare subito, oggi tu fai una mosa, noi siamo già su internet, ci stanno già vedendo, per fare una cosa del genere una volta bisogna fare un filmino, portarlo a sviluppare, se tuo papà c'aveva la telecamera, perché non è che tutti ce l'avevano la telecamera, poi forse fra dopo un mese si rilieva tutta la famiglia per vedere sto film, c'è, ti rendi conto? Eh sì, super 8, sì. Però, non è che adesso voglio dire che dobbiamo tornare all'età della pietra, no? Però, se tu mi chiedi a me questa cosa, no, no, stavo scherzando, dico, io, a me piace così, anzi, se io potessi, mi sarei andato a riprendere anche un altro pezzettino degli anni 60, cioè mi sarebbe piaciuto vivere certe situazioni proprio musicali degli anni 60, del rock, perché la musica è cambiata dopo il rock'n'roll negli anni 50, negli anni 60, i primi anni 60, i Beatles hanno cambiato la musica, adesso se lo dico non perché lo dico nei libri, hanno cominciato a interpretare la musica in maniera, le sette note in maniera pop, mentre prima loro stessi perché avevano anche il rock'n'roll, e da lì, io, vi faccio un altro piccolo esempio, non voglio fare sfoggi di… ho avuto la fortuna a Miami di fare una festa a casa di Bill Collins, un batterista che suonava con i Genesis, lui, lui mi raccontava che aveva avuto la fortuna di lavorare con i Beatles, attenzione, lui è un rock taro progressive, cioè negli anni 70, e mi diceva anzi che era più famoso, i Genesis erano più famosi quasi in Italia che in Inghilterra, e lui comunque ci teneva molto a dire, io ho lavorato con George Harrison, tu immagina, Phil Collins è un dio, però lui, ognuno di noi ha la nostra bella età, lui ci tiene molto a dire, io ho lavorato con l'inizio della musica, cioè io non sono solo i Genesis, io sono anche l'inizio di tutto quello che oggi stiamo qui parlando, ed è quello che è vero.